Sapete, hanno aggiunto da un po' tantissime nuove abilità su StumbleGuys E questa abilità costa ben 18€ Cosa nasconde questa abilità che costa così tanto? Beh, oggi lo scopriremo Rimanete fino alla fine del video per scoprirlo Lasciate un mi piace, iscrivetevi se non l'avete fatto E preparatevi alla svolta di StumbleGuys Stumble Giocatori Qui è il vostro capitano Bellafazza, super carico, super pronto Perché? Avevamo giocato le Ranked, raga Finalmente siamo in legno 2, dopo continuiamo a giocare E io voglio potenziare finalmente le mie abilità Allora, avevo aggiunto anche 5 di voi, raga E facciamo così Volete essere aggiunti fra gli amici di Bellafazza? Bene, allora aprite le orecchie I requisiti sono Scrivere qua sotto un commento con il vostro nome in game Quindi il vostro nome di StumbleGuys Aver lasciato il mi piace Essere iscritti avendo attivato la campanellina delle notifiche E se avrete fatto tutte queste cose potreste essere aggiunti fra gli amici nel prossimo video E vi saluterò anche Quindi, chi sarà il fortunato? Allora, non perdiamo tempo Perché Torney c'è questo? Mi dovete dare un premio? Se non c'è il premio non mettere il punto esclamativo, eh Allora, andiamo subito in negozio, raga E devo guardare assolutamente la pubblicità Perché mi servono i zettoni abilità Per upgradeare le mie abilità Ovviamente Let's go! Non voglio né Stumble zettoni Nemmeno gemme Ah, gemme potrei volerle Se vengono quelle 500 Basta Stumble zettoni Basta! Posso rigirare? E giriamo Per favore, per piacere, eh Qualcosa di buono Che già due o tre ziri che non viene nulla di buono Ti prego abilità Basta No, vabbè, raga Dai, ma che è Another one Se per piacere Poi io mi sa che li posso tenere solo qua Più o meno per ora, eh Dai, per favore 150, ti prego Sì! 150, raga Allora, ok Per 21 ore non posso più prenderle Anche il gioco si è rotto le scatole di me Allora, va bene Voglio vedere queste skin Andiamo Abilità Abilità, raga Vediamo un pochettino 50 non li ho Ho 1200 lì Zettoni abilità E mi sa che non posso potenziare nulla Raga 6000 addirittura Per la palla 5000 Vabbè, follia, raga 50 per questa Qualcosa che posso potenziare 4000 4000 Ma perché questo livello Cioè, perché ce l'ho così alto? Cioè, non riesco a capire Boh E comunque ve l'avevo promesso Raga Non so perché sta cosa costa veramente 18 euro L'abilità Blockthrone Però, boh È un'abilità È un'abilità questa Quindi non fare scherzi Stumbleguys Con questo dito Io shopperò Let's go Andiamo L'abilità segreta Di Stumbleguys Raga Ce l'abbiamo Blockthrone No, ho detto Blackthrone No, è block Ma non potevate metterlo in italiano? Equipazza Subito Boom Andiamo subito a vedere, raga Andiamo Subito a vedere Raga, ma no Ma è un mattone No Ma è un mattone Come scusa La palla di neve Ma no E perché comunque è così nabba? Mamma mia È bassissimo, raga Cioè A che livello è? All'1, tipo Dopo c'è il Tetris C'è il telecomando E il pane Il pane dorato Ok Va bene Usiamo questo mattone, raga Però non mi puoi togliere la palla Eh La scivolata, raga Ok Va bene tutto ma Tanto non la uso mai Cambiamo anche una bella skin La skin carina Mettiamo il bimbo, dai Il bimbo che piange Ci sono le gocce d'acqua Mettiamo le bolle di sapone, dai Bolle di sapone che è appena lavato, eh Ok, raga Direi classificata Andiamo Forza Forza Oh, voglio vedere sto mattone Dovrei comunque sia mettere Tutte Tutte le abilità Il mattone La palla di neve La banana Per rompere le scatole agli altri Secondo me potrebbe funzionare, eh Ok, vamos, raga Rush hour Fantastico La mappa più inutile per il mattone C'è, raga 18 euro di mattone È un po' too much, eh È un po' too much Mattone in arrivo Ok, però esplode Raga, però esplode sto mattone Esplode, avete visto? Mattone Boom Ovviamente non colpisco nessuno Con sto mattone Non è giusto Devo potenziarlo Ma vi immaginate che esplosione Che fa, raga Se lo potenzio sto mattone, eh Dai, vi prego Fatevi colpire Va di sotto intanto tu Due ne buttati giù Che cattiveria Due E vai giù anche tu, Tetris No, invece no Sì, è cascato da solo, eh Attenzione perché Sta arrivando Dietro di me Il vuoto Totale Undicesimo Va bene, va bene Anzi, dodicesimo Forse Quanti me ne dà oggi? Gettoni 75, raga C'è quasi quanto la vittoria, eh Comunque il mattone è folle Il mattone, raga, è folle Cioè, esplode Quindi se lo porto a livello 15 Si fa un'esplosione incredibile Laser dash, raga Che ancora non era venuta, eh In classificata Allora, per ora sono tutti in legno Sono tutti in legno, raga, eh Attenzione, mattone Boom Dai, 18 euro l'ho pagato Ti prego Fa qualcosa in più Fa qualcosa in più Tutti sti soldi ogni volta Mattone Boom Ho colpito qualcuno? Ma non è nemmeno esploso stavolta Cioè, raga, non è nemmeno esploso Mattone È inutile Raga, va potenziato Va potenziato La cosa bella è che comunque il mattone è solo scioppabile, mi sa, eh Perché non ho visto che si poteva trovare all'interno delle abilità Non si era nemmeno da cliccare Quindi almeno è una cosa che ho solamente io Uh, qui il mattone si sta Mattone E non prende niente, raga Aiuto qua Uno No Va bene Terzo, secondo Va bene così, raga, eh Ok, 95 Mi sa secondo, eh Gioca 10 partite Stiamo salendo Intanto Dai che devo arrivare Cosa c'è dopo? Vai al pass C'è argento Raga Raga, ma è folle Gettone abilità per 2005 No, io devo attivare il pass, raga Raga, mi dispiace Lo attivo Io scioppo così tanto solo per voi Per farvi vedere tutte queste cose Tutte le novità di StumbleGuys Ma raga Spaccate sto video di mi piace E rimanete fino alla fine per vedere tutto quello che vedremo C'è, ho già finito il pass Tanta roba Raga 2005 2005 Gettoni abilità Attenzione Chiave abilità Possiamo finalmente vedere tutto, eh Allora, vediamo Prendiamo intanto tutto qua Il vulcano in eruzione I biglietti Prendiamo il biglietto del torneo Attenzione Full of Fatale Let's go gratis Equipazziamo subito Ok Qua abbiamo preso tutto, raga E io mi piglio Altri 2500 Gettoni abilità Tanta roba, eh Allora, un gettone Un biglietto del torneo Poi prendiamo le gemme Mamma mia, raga Prendiamo altri 1000 gettoni abilità E ci prendiamo una scatola dei premi Che tanto si cura al 100% doppia, eh Ebbè Bella però quella, eh Il corgi Il corgi king No, belli I passi dell'immondizia Equipazzia subito Li voglio subito Top, raga Prendiamo anche questo E Direi di concludere, dai Con questo Se no ci scioppiamo veramente tutto Allora Vediamo un pochettino Andiamo qua Perché forse possiamo Sì, sì, sì Possiamo, raga Possiamo Allora, possiamo far salire di livello il mattone Oppure anche l'invisibilità, raga Raga, dopo guardate Il fuoco Raga, mamma mia Ma dopo livello successivo, mamma mia Se diventa ancora più forte Eh, non so che cosa fare Qui è dura, eh Perché, allora L'invisibilità e la palla Li uso più di tutti, raga Cioè, va bene il mattone, però Allora, la palla Tiro su Raga, non lo so Ma dopo, guardate Diventa un rizzo Vai, passiamo salire Dai, fai salire Oh Fai salire Addirittura devo tenere premuto Sì Allora, vediamo Durata Che è sta roba? Questo forse è meglio No, l'ho già fatto Vabbè Ok, fantastico Quindi dimmi che è più durata Aumenta la durata, raga Quindi dura di più Va bene Va bene Selezioniamo Il rizzo, raga È bellissimo No, vabbè È troppo bello Che posso potenziare le cose Allora, il mattone Potenziamo anche questo, raga Dopo lancio il tetris No, non l'ho visto Che è sta roba? Aumenta la forza d'impatto Accorcia il tempo Probabilità di duplicazione What? Cosa sarebbe? La forza d'impatto Però questo 5 su 10, raga Proviamo ad alzare questo Non so che cosa serva Ma va bene comunque E le nostre abilità segrete, raga Crescono Crescono a dismisura Altri 1.400 Mamma mia Abbiamo quasi finito già il pass, raga Ok, classificata Torniamo a giocare E vediamo questa nuova palla Quindi questa nuova abilità E vediamo se il mattone Duplicazione Non so che cosa sia Però secondo me Potrebbe essere utile Di nuovo Laser dash, raga No, la skin di Bob's Bonnie King Bellissimo È bellissimo, raga Ma ancora più bello È la palla rizzo Raga, la palla Ma quanto dura poco? Ma perché dura così poco? No, scusa La palla rizzo non dura così poco Cioè, la palla La palla, raga Non dura così poco Perché dura così poco? Ma non riesco a capire Ma perché? Ma what, raga? Boh, vabbè Sapete che cosa faccio? Mi avete rotto Tiriamo il mattone Inutile, raga Ah, duplicazione Quindi esplode da un'altra parte Anche No, è folle sta roba No Devo tirar la palla A duplicazione Avete visto sto maledetto Che ha cercato di boicottarmi? Adesso vi duplico Vi duplico tutta la vita Ok, vamos Duplication Raga, tre mattoni No, ma è potentissimo Lo sapevo Lo sapevo, raga Che dovevo potenziare quello Lo sapevo Però non è giusto Non capisco Perché la palla dura così poco Cioè, qualcuno può spiegarmelo? No Non si posso credere Io che devo guardare La mia palla rizzo, raga No, c'è qualcosa che non va Devo capire meglio Ste abilità, raga Allora, intanto Abbiamo vinto Mi fai vedere Quanto ho vinto Dai, su Si è bloccato tutto 90 95 Va benissimo Ma scusa Ma non dura così poco Cioè, anche Guardate Anche la palla normale Anche la palla normale dura così L'hanno dimezzata Sti maledetti Sti maledetti L'hanno dimezzata Quindi dura ancora meno Non ci credo L'hanno fatta apposta No Allora dobbiamo tirarla su tutto Se dobbiamo Farla arrivare A livello 15 Per far tornare la palla Come la usavamo prima No, vabbè Dai, folle Folle sta roba, raga Non è giusto Non è giusta sta roba Io continuo a shoppare allora Allora, stambo oggettoni inutili Poi Gemme Poi Prendiamo Altri mille Che voglio potenziare ancora Poi ci prendiamo questi Allora riscatta più tardi Eh, devo farlo per forza Dai E riscuoti Perché almeno adesso posso prendere 5000 Gettoni abilità E potenziamo tutto, raga Andiamo a potenziare Mamma mia La palla Raga, potrei potenziare la palla Cioè, va a livello 11 Dopo Cioè, è folle sta roba Però anche il mattone O l'invisibilità L'invisibilità, raga È già il 12 No, io voglio il mattone, raga Cioè, l'ho shoppato Questo deve essere veramente tanta roba Allora Forza di impatto Tempo di ricarica Tempo di ricarica Chi se ne frega Io farei Forza di impatto E duplicazione, raga Sali di livello Mamma mia Questo Questo qua Mamma mia, raga Sali di livello Solo 200 Solo 2000 Cioè, solo, eh Allora, ancora Duplicazione Mamma mia 20 Cioè, è un sacco, raga Non posso più potenziarlo E sono veramente curioso di vedere quanti mattoni lancio adesso Cioè, 5 mattoni Finalmente Finalmente hanno aggiunto delle cose bellissime Adesso sì che ci si diverte A usare le abilità In ranked, poi Ti prego una mappa bella L'Avaland, raga Uh, ma qui faccio un disastro se lancio un mattone Cioè, butto su tutti Praticamente Mamma mia, raga Butto su tutti Fatemi, vi prego Usare sto mattone Fatemi usare il mattone Mattone, boom Ne ho tirato uno di sotto Ne ho tirato uno di sotto Comunque l'invisibilità, raga Dura un botto, veramente Mattone Ho tirato su un altro Dai, duplicatevi No Duplicatevi, per favore Forse in questa mappa Non è al massimo usare il mattone, eh Per favore Eh, comunque si vuole tanto Tirare sto mattone, eh Serviva il tempo di ricarico Ho già visto che serviva, raga Mattone No, è andato lontanissimo Qui un bel pugno si vuole Dai, andate di sotto Mummia di sotto è andata Mamma mia, sono proprio cattivo, eh Sono proprio cattivo Non capisco perché questi non si buttano di sotto No, raga No, 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 no Pallarizzo Vabbè, abbastanza imbarazzante 75, butta via 500 stelle, raga E siamo quasi al 27 Allora, facciamo l'ultima Mi sto troppo divertendo Vi giuro Con queste abilità Se puoi portarle su Sarà difficilissimo Ancora, raga Ancora laser dash C'è follia Però qui è bello usare il mattone, eh Qua, raga, usare il mattone è bello L'hanno messo apposta il mattone in ranked Perché dà veramente fastidio, eh Boom, mattone Boom L'ho tirato lontanissimo Oh mio Dio Ma avete visto dove è volato? Avete visto? Mattone? No, 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 cosa vuoi? Fammi tirare i miei mattoni in santa pace Inizia a essere complicato Voglio tirare il mattone Tre mattoni ho tirato Ho tirato nel laser Lo scheletro, raga Oh mio Dio Mattone Boom Si però vedono che sono io che tiro i mattoni, eh Si stanno arrabbiando Si stanno arrabbiando Mattone Boom Quando ne tira tre Veramente è distruttivo C'è veramente distruttiva sta cosa Mattone Tre adesso ne ho tirati Dai, toglietevi Toglietevi Mamma mia, come mi sono salvato Il king Vai Pallariccio Pallariccio No No Mamma mia Come si è salvato Il king Bella faccia Tiro anche i mattoni all'indietro Colpisco qualcuno? No, vabbè, raga Ma che salvataggio ho fatto? Ma che salvataggio ho fatto? Voglio vincere io, ciccio No Dovevo rimanere lì Va bene, comunque Secondo Raga, bellissimo Mi sto divertendo troppo Mi raccomando Vi aspetto Assolutamente Nel prossimo video Perché sicuramente Andremo in Cos'è? Legno 2 Voglio vedere Voglio vedere Voglio vedere Voglio vedere Voglio vedere Non si capisce niente Mamma mia Quante cose Da legno Classifica Vediamo Da legno a bronzo Raga Da legno a bronzo Quindi Mi raccomando Vi aspetto Non mancate Ciao Mi raccomando Di Finfiche Grazie a tutti.